Aggiornamento rifugiati ucraini nel biellese. Hanno superato le 112 unità coloro che si sono registrati regolarmente in questura. Tra questi molti sono minori. Allora sentiamo l'appello del prefetto di Biella sulle modalità di regolarizzazione. I profugi ucraini che oggi arrivano vanno nelle famiglie ucraine. È importante che si rivolgano queste famiglie immediatamente laddove non vi sia una stazione dei carabinieri o prima di passare in questura al sindaco che è autorità di pubblica responsabile della sicurezza locale. Ne fanno la denuncia. Denunciano che stanno ospitando A, B e C. E questo deve essere effettuato entro 48 ore. Il sindaco veicolerà la denuncia in questura. Entro otto giorni dall'arrivo sul territorio provinciale queste persone devono ricarsi in questura all'ufficio migrazione perché poi è in questura che si avvierà quel percorso amministrativo finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno. Contemporaneamente, però, e questo è anche importante, devono ricarsi anche presso l'ASL. L'ASL diramerà delle indicazioni ben precise perché si rechino presso l'ASL per effettuare i tamponi e perché nel caso in cui il tampone deve risultare positivo devono osservare la quarantena di legge. Quindi anche la famiglia ucraina che ospita i propri amici, i propri parenti, deve far osservare la quarantena. Così come soltanto dopo che sono stati tamponati, dopo che è finito il periodo della quarantena, potrà essere avviato quell'altro percorso che è finalizzato all'inserimento scolastico. In ogni caso, sempre in prefettura, si tengono dei tavoli continui in perfetta sinergia con i sindaci, con la provincia, anche e soprattutto con la regione. Con la regione si fanno quotidianamente degli incontri in videoconferenza perché poi, ricordiamo, il presidente della regione è soggetto delegato in base alle ultime ordinanze del capo della protezione civile.